Era il 5 novembre del 2023 quando un quarantenne a retino uccise il proprio cane, un rottweiler, con il dado di una balestra per poi finirlo a colpi di coltello sotto gli occhi di un vicino che allertò immediatamente le forze dell'ordine. Adesso il giudice del Tribunale di Arezzo ha disposto per l'uomo un anno di comunità terapeutica. Secondo quanto stabilito dalla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale, il quarantenne era incapace di intendere voleri al momento del gesto ma capace di assistere al processo. L'uomo massacrò il cane adottato un giorno prima in un canile privato sul terrazzo di casa. Il vicino sotto shock contattò il 112. La polizia, una volta arrivata sul posto, trovò il cane ormai senza vite ed il quarantenne in totale stato confusionale dichiarò di aver visto nell'animale l'immagine del diavolo. Nelle analisi successive all'immediato trasferimento in ospedale risultò che l'uomo non aveva assunto né sostanze stupefacenti né alcol.